Il primo spettacolo, selezionati gli atleti e anche il pubblico, specialisti di tre continenti e di nove nazioni, stanno mostrandoci a Monaco gli ultimi progressi in fatto di lotta libera. Chi abbia dimenticato un colpo ha sempre in tempo appiazzato, programma continuato. Insaziabile la platea, arbitro inesorabile, fuori dai piedi e mani a casa.